E allora ragazzi, io sono Callari e la partita che starete vedendo è stata giocata in live quindi forse la qualità del video non è proprio il top però la partita è davvero davvero bella, abbiamo fatto un sacco, un sacco di kill vi ricordo che se anche voi volete giocare con me faccio live per le 6-7 del pomeriggio, quasi ogni giorno quindi vostro andate in live, mi dite invitami se avete già l'amicizia oppure mandate l'amicizia a box in PT06 poi vi spiegamo in live meglio e potete giocare con noi detto questo, guardate la partita ora me lo sono fatto lo stesso sto vogliando boom fai vedere Gito ma 30 gol fanno, vai arrivederci ari 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 che Due viewer. Complimenti a chi è venuta. Mi ha appena visto suicidarmi per leggere già. Vogliamo piacere leggendo il grosso? Sì, a questa cassa andiamo. Se ce l'avete trovato? Non mi dico. A voi una piccola? Perfetto, la mia pistola non ti viene. Oddio! Sono andato con un D3D. Andiamo al grotto. Andiamo allo? Alla grotto. Alla grotto. Alla grotto. Alla grotto. No, 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 no! Ma chi è? Secondo me sì. Sarebbe una buona idea, Mattia. Non ho detto che mi devi uccidere. No, no, tu ti devi uccidere. Oh, e me dai, uccidere. Ma come si può uscire dalla grotta? C'è all'intenziale? Se lo sbaglio. Sì, si può uscire dalla grotta. Ah! Ma c'è anche l'elicottero. Un'elicottero. Un'elicottero. Sbaglio è lupato. Lo proviamo, sì. Un'elicottero. Ragazzi, vedete che c'è gente. Dove sta? Dove sta? Dove sta? Dove sta? Dove sta l'elicottero? Dove sta l'elicottero? Dove sta l'elicottero? Cad кру C'è una porretta qui. Molto cattivo. Eeeeh.. MASCMELLO QUILE DI P***OS. 454 Guardate un attimo federix C'è la porretta. Qualcuno può.. Che p***e fu*****voli Guardate con ieri da. Guardate, non vorrei al seemi cerito. Quai petrolio a bestfoot? Uhhh.. Papa un attimo. Guardate un attimo Ho detcuzato qui sta. té m*****volo. W personne c**volo Secondo me il Barret è un pós rotto. Non è che è un po' rotto Beh, è troppo rotto Perché, c'è volte, tipo nella partita di prima che sono giocando la scocciatura Cioè, prendevo gente, ma come che non la prendevo? O non veniva lì, i posti di ripassai mezzo... Non so, mezzo legato No, ma il Barret spacca le strutture per pushare Fa un casino di danno No, no, va, l'unico cecchino grizzato è il bot action Non leva tanto, tanto No, neanche più ormai quello, neanche prato Eh, va bene, dovevo prendere questa linea Se in effetti cecchino... L'unico su, ormai quello è equilibrato, aiuto Anna Maria, vengo il buon grigio d'oro Complimenti Il centro di Vink si fa più ora, perché se provano la mente di Paolo Ma com'è possibile? Ragazzi qua 41 41 Ragazzi, dietro di me 41 31 31 31 21 21 31 31 31 31 Ragazzi, ma no! Ma poi c'è un pesillo Ma sei un dio, fra! Sì Modestamente non un dio Modestamente Ragazzi, là sotto, stare sotto l'uno Eeeh, non c'è un bende, guardate Sì, sì, sì Vabbè, come mi capisce Se puoi spararmi uno scildino Ah, no, l'ho trovato Avevo scoperto un po' di luce Scopero Sì Ragazzi, io l'ho vingato, io per scena che non l'ho più, non c'ho finato Un ruolo, raga Uno stack Mamma, che c***o Sì, ma è più grande possibile Io non ho capito la punte Eeeh, raga, la sotto Sì 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 Stanno qua, ma qua gli scildini Oddio, c'è pure il randino Ma io non l'ho preso Qua Sta qua Gli scildini stanno... Qua Sì 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 Raga in mano Raga in mano Raga, si ci prendono la lag Matteo, non l'ho mai mai Vado io le lag Stanno prendendo la lag, stanno prendendo la lag Non l'ho fatto sopra C'è una bomba Ma qua 150 ma che c***o? Ma che c***o che c***o che c***o? Ma qua c***o che c***o che c***o? Si calmo 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 Caldiamaci tutti Crucio ma che c***o? Ma che c***o? Se ne vuoi più c***o? Mamma mia Va bene che sei riscrito hai sempre una ragione Però... calmiamo il snark Te la c***iamo per te Chi ha fatto la kill già grande Mattia? Già grande Mattia non è una parola multirai Solo c'è 7 kill 4 kill 2 L'importante è vincere L'importante è vincere Non fa niente Già che ci hai detto che c***o la gentina grande hai fatto tanto Che s***o c***o Ma voi non potete capire come sono morto Praticamente avevo 150 Lui c'è il tattico bianco E io c***o il compadelo non ho Io faccio 80 e 30 Lui mi fa 150 S***o S***o 150 Ma si può potere 150 col tattico Se c***o il tattico La macchina è da 22 Ottimo Mattia Vabbè l'avete vinto Eccolo E' finito S***o 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 Non era l'ultimo Non era l'ultimo Fatelo fuori per favore E non 2 Ok siamo 3 contro 3 1 a terra Ah ma non era l'ultimo Per niente L'avete finito quello la Forse siete contro 2 Lo avete finito quell'ultimo No non l'hanno finito No non l'hanno finito S***o contro 2 S***o 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 GG bella vittoria Scorpion Ci sei Ci sei anche stasera Grande Scorpion Un po' di ritardo Un po' di ritardo Un po' di ritardo Fai bene Volevo fare creativa Oppure scuole No 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 GG GG Mi sono letto GG da solo Bella però Una sfida c'è sempre Alla porta Ah beh l'abbiamo vinta C'era tua? Beh è bell'uva del mio mondo Bene ragazzi S***o che il video vi sia piaciuto Se fosse stato così Mi raccomando lasciate un bel like Un commento E un'iscrizione al canale Che non fa mai male Detto questo vi ricordo che Giochiamo sempre in live E ci possiamo vedere in un prossimo video Bella ragazzi